Siamo qui con Patrick Dipinto, laterale del Rogit, nuovo innesto del Rogit, ottimo esordio con gol, subito grandi giocate e soprattutto una vittoria molto meritata. Sì, mi sono messo subito a disposizione della squadra, sono contentissimo per questo esordio con gol che valsa la vittoria della squadra, speriamo solo che arrivino notizie positive dalla partita tra Futura e Villa Passanisi per sperare di poter entrare nelle Final 8. Come ti sei trovato nel Rogit, che ambiente hai trovato e come ti sei trovato con i nuovi compagni? Ho trovato un ambiente bellissimo, stupendo, a partire dalla società, a finire i ragazzi, il mister che già conoscevo e io avevo bisogno di stimoli per ripartire. Penso che una società così non la troverò più. Grazie mille Patrick, in bocca al lupo. Crepi, grazie.